Dunque ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Baldur's Gate 3 È la seconda volta che tentiamo di partire Purtroppo è crashato Problemi tecnici Sì, problemi tecnici È crashato il PC all'Age È crashato, si è riavviato da solo Sì, così A vita propria Esatto Ma forse c'è stato un aggiornamento e me l'ha riavviato, io non lo so Sì, ma in teoria se stai facendo qualcosa non dovrebbe fare nulla Eh, non dovrebbe, sì Però è che abbiamo una volta che succede a me Una volta è capitato anche a me, però tipo stavo renderizzando Non so perché Mamma mia, lì è brutta però È brutta Il rendering non lo vede come una roba attiva E quindi ha deciso di riavviarsi Vabbè Vabbè, vabbè Comunque, sì, stavamo parlando Con i tizi qua in basso Sì, andiamo Facciamo tutto Fatti dare l'oro La moneta, grazie Quello se ne va Ma costa Ah, dai Tutte e due Tutte e due Pure te Dai, due monete d'oro Grazie ragazzi Quando volete Dai Dai Dai, facciamo i soldi Sì, ci servono Allora, poi eravamo uno di qua Sì, qua c'era Forziere Ah, intanto io ero andata alle bacche Ah già, io ti avevo dato le bacche Sì Aspetta, mandala al campamento Io le riprendo dai cespugli Avevo fatto così Tieni Toh Siedami Che mi curo Un pochettino Allora Usa Consuma Poi Poi, aspetta Questa invece Eeeh Manda l'accampamento Andata l'accampamento Ok Via Così non ho Uno roba Vai, vai a parlare Con la gente No, no, no Andiamo a parlare Sì, che qui c'è Una che è tutto Tutto altro che Eh La signora qui Tocca sistemarla Allora Allora Cambiamoci tutti Abbassate le armi Conosco questa signora Ma io non vorrei Abbassare le armi Però Noi dobbiamo essere giusti Che ne dite Di calmarvi tutti Cosa succede qui Eh Ma non gli credo Non vi lascerò No, no, no Eh E non va più avanti Io sono uscita? Eh sì Ha lasciato la partita Ma io non sono uscita Eh sì, e a parte che non riesco a... Invitarmi? Eh, devo fare così Aspetta Aspetta, così Ok, poi Vediamo se Allora, menu principale Ricarico Ma non gli piace la zietta Giustamente Eh no, beh ma Bisogna farla fuori sta zietta Perché tutto è tranne che Una zietta dolce e gentile Vediamo se riesco a rinvitarti Non ci riesci? E aspetta, sta... Sta caricando I caricamenti sono un po' sopra la media Eh, come tempo Però lo fa solo determinati punti E non tantissimi Quindi va anche bene Ok Oh Dio Ok, ti ho rinvitato Sì, vedo Andiamo a faremo A questa parte Questa è la nonnina Che porta sfiga Sì, sì Dopo i troll che facevano roba Ma c'è la nonnina Ok, meno male È partito da qua Il dialogo Ma no, ma si è bloccato ancora No Ma mi sta andando Ah, ok Ciao ciao Ah, ce n'è andata così È evaporata Devo parlare con questi? Eh, sì No, posso solo ascoltare? Ascolta, ascolta Ah, perché stanno parlando con me Quindi ascolta, ascolta Ah Quella me gira ha preso Rina Eh... Beh, qualcuno può dirmi per favore Cosa succede? È la nostra sista Marina She is Beh She was in a bad way After her husband died Start saying weird things Like how she was gonna bring him back Next thing she's gone looking for the hag Of all the stupid things to do And we haven't seen her since And no good ever came from dealing with the hag None of this matters, alright We need to get her back And fast Lasciate che ci pensi io Riporterò Maierina a casa? No, io non vedo Non le vedo Vedo le risposte di prima Dovrete chiamarvela da soli No, io, vabbè Io direi la prima Lasciate che ci pensi io No, 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 no Vedo Vedo le due risposte Vediamo Stai giocando? Non ho una scuola di chi sei Non ho una scuola di chi sei Non ho una scuola di Rina Non ho una scuola di te Ma Joel Non ho una scuola Siamo tornata da soli Ora, vabbè 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 Però la tua risposta Cioè Io non vedevo la domanda che vedevi tu Però Il gioco l'ha contata come giusta Vabbè, ok Oh, sarà Buggata sta Sta parte Va bene Dove andiamo adesso? Del là o de qua? Adesso Esplodiamo Esplodiamo De qua? Sì Esplodiamo tutto Ma c'è una piantina Ma vio Uh, bistecca di montone Ti capi? Fatata Bistecca di montone Carota Carota Vabbè Il piatto di stagno Prendilo tu Vai Che quello si vende Ecco Uh, aspetta un po' Lì c'è un giunco Giunco spinato Devo andare a prendere Ma dove? Fa sotto Ah Sta salvando lui Aspetta Oh, un brivido Un brivido Sento salvare Ma guardiano Cerca segni di interferenza magica Vai, cerca magica La magica No la magica No quella magica Per carità Cerca, cerca interferenza Dai, dai Vedi, vedi, vedi Dai Attenzione Oh, fantastico Cos'è? Oh, madonna Perché io vedo Strano Sbatti le palpebre Quando riapri gli occhi Che è natura Del luogo E cambiate Mi frediti Mi insidiosa Oh, no No Dove sei? Ah Cosa? Mamma mia Che Mi è peso un coccolone Mi hanno fatto vedere Il primo piano del mio bala E pensavo che era un nemico No, io Invece Non ho visto praticamente niente Perché avevi un momento privato C'era scritto Eh, sì Dovevo fare pipì Comunque è visto In realtà In realtà È questo il posto Hai capito? Infatti La roba che hai preso Ah, no Meno male Erano 4 mele No, è vera È vera Meno male No Mela avvelenata Guarda bene Eh, no Non sono andata Nell'inventario Eh Dieci giorni Ma senti Io la 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 vendo La vendo Sì, vendi 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 Io Sono di nuovo invisibile Non si sa perché Vabbè Comunque hai visto Questa qua è una cosa putrida Putrida Ma sì Ma invece era bellissima Prima Perché È un'illusione Qualcuno ci sta ingannando Aia Attenzione Dove va Dove vanno Ma no Ma che state facendo Ma che state facendo Scusate Io non mi posso salvare Qua è tutta Fermi Ma perché Non torni su E niente Non dici se De moribbo Ma no Ma io È perché Non mi vedo io Porca di quella Vak Senti Andiamo su O dobbiamo Continuare di qua No Io vado su Torniamo su Pala Su Torniamo su Andiamo su Mamma mia Che postaccio Brutto Ecco Casomai Dovremmo venire In perdi qua Qui c'è un cestello Biglietto amorevole Fate un profondo respiro Tesorucci E venite a mangiare Un boccone da me Zietta Mortacci Della zietta Mortacci Hai capito Sta zietta Attenzione Dove vai Eh ma Ma se vado là Schioppo Cos'è Puta Ah Maledizione Vabbè C'è un berretto rosso Un po' più avanti Sì Però fa 58 Ancora 58 È di vita Vita Eh sì Dove dobbiamo andare Dimmi tu Eh dobbiamo esplorare Tutto qua Eh ma Questo posto Di M Sì Veramente di M Ma Ma Sì ma Eh ma io non Ma perché solo vuoi Ma io il fatto che non mi vedo C'è un altro giunco Porca vacca C'è un altro giuncolo Giuncolo Non so perché Me l'avvelenata Aspetta faccio una cosa Vediamo se riappaio Ok Oh ecco Sono riapparso Ok Non mi vedo Ok Però Eh C'è un'altra cesta di vimini Continua ad andare avanti Piano piano Sì sì vai avanti Piano piano Con altre mele avvelenate Tanto me le mette subito E ci stanno questi nani Dal giardino Qui C'è un altro giunco lì Ci vanno con questo? Se vuoi sì Ah sì aspetta Aspetta Perché Secondo me Secondo me Prima era un'illusione Era tutta una roba soleggiata Loro erano delle pecore No Ah Quindi lui È convinto ancora Di essere una pecora E pensa che noi Vediamo una pecora Ok Se tu Gli dici tipo Cosa stai facendo O Gli fai capire Che non c'è più l'illusione Questo qui ci attacca Ah no Quindi Allora faccio Beh No No Fai termina conversazione Ah ok ok Basta Non ci parli proprio Sì Arrivederglielo carissimo Allora qui c'è uno scheletro Qui c'è uno giunco Vediamo Ah qui pure c'è un altro giunco Ma tutte mele Scheletro Giunco Prende tutto Cos'è che Ah Non lo so Ah sei in putrefazione Anche te Ok La pedita di mano Successo Ma cos'è che Stai facendo Ah Non io niente Eeeh Dovremmo andare Per di qua Allora intanto Sblocchiamo La tappa Ah I quelli di prima Guarda che sono morti Quelli di prima Ma so credini Cari Joel E Demir Non arrabbiatevi Dico sul serio Vi lascio questo biglietto Solo per evitare Che cediate al panico E facciate qualcosa Di stupido Vado dalla me gira Devo farlo per cosa Per tentare Di mettere le cose A posto Sapete anche voi Che farebbe Altrettanto Per me Tornerò presto Non dite una parola Mamma Va bene Ha già troppe cose A cui pensare Meirina Capito E il biglietto Dobbiamo andare in su? Sì Qua in su C'è la casa Della me gira Sì ma è tutto In putrefazione Oh guarda Qui c'è uno C'è Gandrel Andiamo a parlare con lui? Sì 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 Vai 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 Ah a fellow wanderer Sì 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 Chi è? La padrona di casa? Perché presumi una cosa del genere? Non chiamerei covo una casa del tè? Beh sì Ma Non è un covo sì 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 Perché presumi? Beh basta Ho cliccato la prima Parla chiaro che cos'è? E tu sei sciocco abbastanza? Vogliamo dire prima? Sì parla chiaro A chi stai dando la gaccia? C'è qualche consiglio su come comportarmi? Ah ci devi farla temo Vabbè persuasione lo posso usare io Sì ma Hai svantaggio In questo caso hai svantaggio perché sei putrefatto È vero E quindi? Lascia stare Già mi metto di dirtelo chiesto Lascia stare Lascia stare Sì comunque io avrei un detto per lui È domandare È lecito rispondere Rispondere Cortesia Giustamente Giustamente Vabbè andiamo dalla megea? Eh sì Sì Possiamo farle visita però Solo parlare Non affrontare No no se vuoi ci vanno idea Ma perché? Aspetta un attimo Scusa Mamma mia io sono proprio affranta Eh ma perché a Gail Anche a tutti gli altri Divene carne putte fatta Cioè Ogni tot Anche a te Sì 25 giorni rimanenti Eh sì Malato Forse è il posto Eh ma Karlak sta bene Questo è il fatto Dove si entra? De qua Qua Non è che dobbiamo per forza fare un riposo lungo Eh può essere Scusa vogliamo andare Per curarci un po' Eh perché se no Però no Non voglio una cromba Scusa a quella Piazza Antti Ethel Scusa Un altro E questo pie Scusa 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 Non mi faccia La piazza Scusa 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 Per due Allora Scusa Scusa Se non è la Chekia Pop Scusa 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 Devi avermi scambiato per qualcun'altra Eh sì Sì Diciamo la seconda Sì Sì vai Tonta Ma Ma Lei e Meirena Ho delle brutte notizie da darle Eh sì Sono morti Eh sì Eh sì Eh sì Eh sì Eh sì Nulla Devo scambiare a qualcun'altra La zietta Della ha ucciso Deve ha ucciso i tuoi fratelli Eh Ti facciamo Io diciamo Sì sì Dai Scostumati Ma Va Oh no Oh no Ora si trasforma Ma siamo tutti Mezzi mezzi Ma Madonna Ma cos'è questo mostro Mostruoso Ieri ho aggiornato Aia 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 Non mi ricordavo che c'era lo scontro Io non l'avevo avuto Mi pare Vabbè Vabbè Vedi Allora E arrivano anche i Berretti rossi Maledetti Eh Quanto sei n'annata? Non la vedo io Lei è diventata invisibile Oh no E mo A che tiro? Mi pare che Comunque Lei Scappava Forse A un certo punto Non so Ah perché di voi loro Sono arrivati I berretti E Allora Io andrei qua Vediamo un po' Ah si Potrei Guarda Ma come è mancato Lo fai a lanciare Lancio Lancio Dov'è? Ma scusa L'amico Dov'è finita La bomba che avevo? Aspetta Ma avevo una bomba qui Siamo organizzatissimi Ma no Ma l'avevo qui Scusa Eh ma le cose spariscono così Ma no Ma ce l'avevo L'ho anche selezionata Non è che l'ho fatta cadere per terra Per sbaglio Io non l'avevo Questa Ma no Ma era qua Ma perché Ho fatto lascia oggetto anziché lancio Lascia stare Lascia stare Eh lancio qualcos'altro Lancio qualcos'altro Lancio Voglio lanciare qualcosa Va bene Ok Vediamo Vediamo questo Quello succede Sembra La palla della pizza Hai capito? La forma della pizza Hai capito? L'impasto Ah Li comando io Oh Eh Mancava Il mio ragnone Immune Ah beh Il ragno immune È imbischiato Adesso tu Dagli fuoco Sì sì Appena Oppure posso Ah no Tu hai già fatto Allora lo faccio io Mi do fuoco Dov'è Qua Ecco Non l'hai preso? Sì sì Ho preso La ragnatela Che adesso darà fuoco Ok 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 Ah toccato Alloro Carlac Eh io direi che Carlac difende qua Perché se no Casino E Magari lancia Aspetta Separa No Separa Ok Non lascia Ormai non ho Cliccato Che che hai messo Peggio Io Mi sa Eh sì Così sì Ecco Ecco Pochettino Bella Che è stato? Beccato la bomba Bastardo Maledetto Cioè C'è C'ha quasi Mi tocca A te Ah che c'ho due ragnetti qua Quanto pare Oh Vai Da Mo' tocca a lei Spezzare illusio Ah vedi Vedi Lei scappa Mi ricordavo Che lei Perché allora Io non avevo avuto Lo scontro Ma forse L'avevo visto Che lei Infatti Non si combatte Qui lei E infatti Lei Va evitata Adesso Cioè Comunque Eh Facciamo L'azione Facciamo così Ok Povero Gale Ah sì Sì Potrei Vai La piazzo lì Aspetta Vediamo Guarda la sfera Infuocata Boom Fantastica Ok E la posso Anche comandare Eh Ma dico Metti un po' Capito Ah quindi Ok Carla Lì non c'è Non c'è bisogno Che stia lì Allora va qua Che fa da tank E mi fa Così Ah L'ha mancato Oh no Questo si è avvicinato Troppo Eh Eh sì Vediamo Ok E Top Vai Sfera Infuocata Colpisci Ecco Vai Si mazza Una sfera Infuocata Sei Ti danno Io Mi aspettavo Gli asfaltass Nei pop Entranno Eh magari Magari Allora Io direi Che Abbiamo il marchio Su questo Io farei Una bella Freccia di fuoco Su questo Ah però Becca anche I ragnettini Palla Spero Eh sì Eh se no Se no Imbeviare Però volevo bere Ecco No Devo attaccarlo Nolamente Per forza Ah se no Se no Aspetta Facciamo così Chicchiamo Chicchiamo Chiamo L'orso Ok E poi Bevo Ah ce ne sta pure Uno laggiù in fondo Si ma è un po' in fondo Non male Scatto Ha detto Scatto Scatto Allora Io farei 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 Ah così Ah Ah interessante Livello 1 Livello 2 Lo buttiamo via Così Dai No È rimasto Lì È rimasto Qua Maledetto Eh potrei fare io Eri spinta Dopo Oh no Stanno avvicinando Un po' Troppo Eh No Mazzate Ti ha sciottato Nanno Maledetto Non riesco Sì Con Carlac Eh Faccio Così Oh Punizione Incandescene No Facciamo così Attacco Ero Come è mancato Mancato però Hai comunque colpito Quest'altro Eh sì Uno ne ho preso Non siamo messi Bene Ci dobbiamo Ci dobbiamo Credere Sì sì Ma io ci credo Eh cinque Gli ha fatto Ma questo C'ha Galem È andato giù Senti Eh 42 20 Eh Insomma Io userei Però Becco Becco anche Carla Così Se no Becco Questo Sì Eh sì Nove di vita Fugito Ok Adescato So se non sufficiente Mi sposto qua È adescato Però attaccano Carla Mortacci Cioè C'è Sei solo Tu E l'orso Eh sì Ma qua Io non Credo Di Ci devi Credere Ci devi Credere Se no Dai che sono quasi tutti Beh tranne quello dietro C'ha più vita ancora Quello in fondo Eh lo so Lo so Tiro su te Tiro su te Sì vai vai Tiro su te Eh magari Ah magari Provo a fare Ah non ho più pozioni Però Ma le tue Bacche Ce l'ho io Ce l'ho io le pozioni Ah sì Sì Eh aspetta Me le prendo Un attimo Sì vai vai Vediamo se riesco a tirarne su due Un colpo solo Però La vedo Se no Tira 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 su Carlac Che è più forte Eh però Comunque ha uno di vita Cioè In teoria così Pecco tutte e due Però Ne ho neanche E Niente Su Carlac Allora Vai vai Eh ma Non lo lancia Perché Oh In giro Ma perché non lo lapa Così e basta No scusa eh Oh Eh Vedi Vabbè Ha preso Te non T'ha preso Eh magari Magari No Oggetti Ehm To No Ecco Ma porca vacca Ha bloccato Ah Carlac 12 No Mancato Ma dai Mia 3 di vita Questo Chi tocca A te No Ma quello 16 Ma quello Che aveva 3 di vita Questo è curato Questo ce n'ha 16 No Eccolo qua Ce n'ha uno Ah eccolo Sta subito Dietro Eh però Mi devo allontanare Non posso Con il ragnetto E allora Becchiamo questo Eh zero Ammazza devo E niente Game over No vabbè Avevamo Avevamo salvato Prima di arrivare qui Eh poco prima Ah poco prima Sì Guarda Carico Ok Forse prima Della tua Forse è meglio andare All'accampamento No Perché già eravamo A parte che eravamo Intossicati No infatti Eravamo intossicati Eccetera Facciamo così Seguiamo la strada Che è più sicura No ma è uno scontro Che ce la possiamo fare Eh Però dobbiamo stare Sì 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 Però eravamo già Mezzi mezzi Eh sì sì Perché io volevo fare Prima sta zona Che comunque C'è anche un altro scontro Un po' più avanti Così almeno Facciamo un po' di esperienza Magari Guadagniamo un po' di robe Un po' di soldini Vieni su di qua Aspetta Devo Ah che faccio No niente No quindi non faccio Mago arcano Sì sì Fai mago arcano Sì 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 Fai mago arcano Vediamo se a sto giro Magari lo vedo anch'io Non so No di uno Non vedo manco io Cioè No usa Quante ispirazioni abbiamo Due Una Come una Sono uno Eh riprova dai Ritenta Quando dobbiamo svelare tutto Eh ma porca vacca Che cavolo però Cioè Ma vaffa All'uovo va E quindi a sto giro Niente Niente Ma non è vero Ma non è vero Noi lo sappiamo Non è vero Ci stanno le pecore Che non so pecore Eh Vieni di qua Vieni di qua Arrivo Arrivo Vabbè però Magari andando Cioè Parlando con la megera Magari poi si svela tutto Andiamo Stiamo Stiamo sulla strada Stiamo sulla strada Vedi Vedi che ci sono le pecore Eh Lo sappiamo Che sei dei berretti verdi Berretti verdi Eh Cretini Ah ma vediamo io Parlare con gli animali Vediamo se Se io ci Se io ci parlo No V Dimmi di questo posto Pecora Distogli lo sguardo Allunga preventemente Una mano Verso la pecora Dai facciamo a destra L'animale Aggiungimi il bonus Eh ciao E niente Vabbè Dove sei? Qua Sono qua Mela su cosa Adesso c'è scritto Dentro ai giunchi Allora Allora Da qua andiamo Lo stesso Anche se la strega Noi avevamo parlato Col tizio Però Eh che non c'è Sì che c'è Lì Sì c'è C'è È vero Vai Parlaci tu Stavolta Vabbè Vabbè Qua Gli diamo le stesse risposte Dai Sì Vabbè Ok Ok Cos'è che le avevi detto Chi sei tu Sì Parla di casa Parla chiaro Chi sta dando la caccia Ah Ah qui però Tu avevi detto Lascia stare Già mi pinto Di avertelo chiesto Sì perché Io ero però Cioè avevo Tu invece Persuasione Forse posso aiutarti Con la tua caccia Vai Andiamo Oddio non lo so Beh Dai Ah ecco questo Ah ecco questo Astarion No no Mai conosciuto Conosco Astarion Non è un vampiro Sì Io volevo vedere se Appunto la prima volta Magari parlandoci te Veniva fuori Sta informazione Che io lo sapevo già Ah E tu cosa hai risposto Però No Lui Lui sta dando la caccia Io Avevo parlato con lui Con Astarion vicino Capito Ah ecco Capito E però lui Probabilmente Non lo conosce Non sa la sua faccia Capito E quindi io gli avevo detto No no Ma io non lo conosco Conosco E quindi Adesso Che vuoi Rispondere Però qua vedo Conosco Astarion L'ho già incontrato Mi sembra il tipo Che oppone l'esistenza Puoi lasciar perdere Il tuo inseguimento Astarion Sotto la mia protezione Cosa se ne fa Tu attribui Una cattura Come quella Ma non Non possiamo Non possiamo Digliere Non lo conosciamo Eh no Vedi Allora Allora No Allora Anch'io Non avevo risposto Eh no Io senti Direi la terza Puoi lasciar Per il tuo inseguimento Astarion Sotto la mia protezione Vai Ecco È un marpione È un marpione Già l'abbiamo visto No ma in realtà Appunto Astarion Non c'entra Cioè C'entra in parte Ma non è colpa sua Mi pare Non ti aiuterò A trovarlo Stai alla larga Eh Oppure onestamente Non ho idea di dove si Eh ah Anche si Ecco Va bene Anche perché poi È una cosa Che Vedremo Solo Nell'atto terzo Quindi molto Più avanti Ah Figura Io non andrei Dalla strega Però Sì Adesso stiamo Tutti bene Guarda Ah già È vero Salviamo Eh ma perché Prima Eh Non mi ricordavo Che c'erano le trappole Anche trappole Abbastanza Insomma Quindi Quindi comunque Dovevamo svelarle No adesso ci sono Se tu vai nell'acqua Ci sono le trappole Però vai vai Parlaci Parlaci te Con Con la megera Non è che sa Farò Bacuri questa Ma no C'ho paura Quando mi dici Apri Apri vai De Ma Che è Noi le Vediamo le stesse risposte Sì Possiamo andare avanti Sì 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 Aspetta Eh Di un po' Beh adesso c'è il mago Eh sì Di un po' Magento Eh sì Io sto da detto Sì Sì No questo Questo era Ok E qui abbiamo detto Questo Sì 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 Mostro E lei evapora Evapora Fatta evapora Bene Ok Sì Ok Ah però L'ambiente Ah vedi L'ambiente cambia Ah Ok Ma perché io sto sempre vicino Vabbè che ora Lei se ne va Sì sì Lei se ne va È bruttissima proprio Ah vedi Vedi adesso Si trasforma tutto l'ambiente Eh sì da me è già successo Lo vedi adesso tu Sì 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 Sbatti le palpe Perché quando riapri gli occhi La natura del luogo È cambiata Va bene Questo già L'ho visto Ok Sei invisibilata Ok quindi lasciamo perdere lei Sì E dobbiamo occuparci dei berretti rossi Sì Questo qua Che dove sono Ah ecco Stanno arrivando Ma perché il tuo ragno sta là Ups Allora Ehm Tocca a me Ma io Non ci arrivo a loro Manco io Ma dove sono Eh stanno troppo giù ancora Eh sì sì Quindi niente Vogliamo avvicinare Ragazzi io evoco La sfera infuocata Qua sulle scale Che non ho preso il ragno Un uomo Vabbè adesso verranno pure loro su no Sì Guarda di lì Vabbè 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 Lalo 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 Ah e userò Tò La ragnatela Per rallentarli Ok Genio Genio Che ha preso anche fuoco Tra l'altro Vai vai Meglio Meglio Ah Si è andato sul fuoco Cretino Sei un cretino Venite cari Venite Brama di sangue Brama di sangue Ma che te vuoi bramare Ma che cercano di evitarla Aveva visto Sì Sono intelligenti Guarda Guarda questo fringuello Guarda Guarda Sfera infuocata La 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 Così Ecco 8 danni Insomma Insomma Un po' una pippa Questa sfera Posso dire Ok Lei se ne va Tocca A te A te A me A te A te A me con Si è vero 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 Con No No Ah no Tocca a me Aspetta Un'altra Un'altra ragnatela Ecco Ma potevi mettere sotto a questo No Qua abbiamo infuocato tutto il passaggio Così Così Madonna Ma quanti danni che fanno Quello sta a fa il giro Hai capito Il giro di Beppe è tornata reale La girazione su Gale Si ma Non ha avuto effetto Invece su Messi Ecco Beccati questo Vabbè No 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 Oh c'è la Mizz No vabbè Dai Che cavolo Che toccava a me Lo dico C'è Io non lo so C'è Questa è cattiveria Oh Falla un po' fuori Quel nano Dal giardino Allora Io vorrei tirarti su Aspetta Cosa Aspetta E tocca alla mia Creaturina Eh beh beh Qualcosa io ho fatto eh Ok E Colpo critico No Che mi ha ucciso No Mi ha ucciso pala Malla di marcia tua Qua Beccinto Dice Tocca a me Mmm Mi posso vendere Un'ampolla Eh Non lo so Prova a vedere Vorrei spingere via Sto qua Vediamo Oh niente Non si smuove Maledetto No No Ma che fa Sulla palla Si saltano Come Questo è Questo è Shot Concentrazione Terminata Ehm Anzi E No Ah ok Tocca a quello Se tocca a questo Che sta davanti a me Mucci Beh Appunto Attaccano tre volte Hai gravito Eh Ma caro Però non è giusto Dai Ce la possiamo fare Ma vedo un po' Io Capisco la fiducia Cioè Peggio di prima Eh Pure mancato Dai Eh Vabbè E niente Ma prima che eravamo Che eravamo Mezzi morti È andata meglio Cioè Eh infatti Già Non lo so Mazza che so Sono incazzati neri Mamma mia Eh ma adesso Siamo morti Nuovamente Cioè Eh per forza Ecco Vabbè Però sto giro Ho salvato subito Meno male A me non dobbiamo rifare tutto Lamparadan Eh Tu 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 Non mi ricordo a che livello Mi avevo combattuti Ma mi pare che era il 4 Giù Super giù Cioè Ok Va qua Ma non puoi salvare da quando parliamo con la signora Sì Con la vecchia mezzera qua Sì in effetti sì Eh No posso salvare anche quando inizia lo sconto se per questo eh Eh Ah che bravo bravo Almeno Se dovessimo morire cominciamo da là Se no ogni volta tutto sto dialogo Eh Sì Via Salta Mago 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 Delle prostenotite Delle prostenotite Ha ucciso i tuoi fratelli Sì Ok Ok Mo diventa tutto Ok Sì Salva Aspetta Salva Aspetta Tocca a noi Sì Sì Ah il mio turno Mio proprio Mio mio Eh E Allora To E Lasciali così Lasciali così E io stavolta Magari ci vado giù pesanti Buttai il fuoco Buttai il fuoco No no Aspetta Magari è meglio averli un po' rallentati Mmm 6-19 danni 6-19 danni 6-19 danni Eh 80% Mi pare ha mancato E niente E niente Eeeh Ok Sì Sì Posso metterli Nuo Palla Infuocata La sfera Infuocata Comunque la sfera Infuocata Fa 2-12 danni Capito Capito O coltello Coltello di ghiaccio Facciamo coltello di ghiaccio Livello 2 Su questo qua Oh qualcuno mancato sempre C'è sempre Sì Eeeh Salta giù E le Ah facciamo così Guarda Dov'è una bomba Così Lancia No 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 Lancia bomba Eh che cavolo C'è Mmm Voglio provare questa Senti adesso io provo Invece che un trucchetto Provo un Un Incantesimo Eh Di invocazione Facci Facci Perché fa 36 danno Però me devo avvicinare Perché da qua Andiamo Ok Questo si è avvicinato troppo Eh no Mo c'è Carlac Ok Non ha avuto effetto Meno male Beh quella se ne va Se ne va Meno male Almeno lei Fa una cosa buona Ciao eh Ci vediamo più tardi Arrivedergliela Più tardi Ok Allora Tocca a me Vabbè colpirei Questo qui Dai vediamo Oh Bene E io ci andrei giù Pesante Come prima Freccia di fuoco Su questo qua Bella Bella Dai Quello è quasi morto E poi magari il marchio Come No ho sbagliato il tasto Vabbè No è giusto Ma devo Cliccare un'altra cosa E fa niente Madonna Eh Wrestling Veramente Eeeh Il turno mio Aspetta Aspetta Eh Ho detto Che volevo usare Questa Spero di non Prendere Garlac Ah Devo scegliere Ah Così Sì Va In coltello di ghiaccio Tutte e due Sì Usiamo Ok Ok E me Perché non l'ha Cosa Cosa Eeeh Mancato No No Mancato Due Due volte L'hai presa Due volte L'hai presa Ah È fenomenale Questa Mamma mia Zincantesimo È Stratosferico Allora Vedi di massacrare Attacco di opportunità Se faccio così No Eeeh Senti Attacca questo qua Ok Azione bonus Va bene Oh Che ha tirato Sto gredino Tocca A me Ah 6 6 Brama di Sante Tocchiamo questo Eeeh Mancato Eeeh Freccia di ghiaccio Comunque un po' di frecce speciali le devo comprare Ricordamelo Ah si Ah si Ricordamelo Eeeh Allora Tom Ecco questo Ma dai Porca vacca Eeeh Questo Vabbè posso attaccare Mischia Tom Eeeh Che fatica Dai che quello è quasi morto Oh Mancato Vabbè ma ammazza di mancato Oh questo mi si sta avvicinando troppo Meno male Meno male Carla che l'ha steso Perché mi avrebbe shottato instant questo Eh porca Oh vedi morire Allora Allora Un attimo Un attimo A uno di vita A uno di vita Eeeh No Come si fa qua mo Facciamo Non ci arrivo Cavolo Non ci arrivi a chi Aspetta Chi Vuoi beccare quello là Sì qua 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 Sì sì ci arrivo Dai Aspetta ci ne manca uno Morto Dov'è In teoria E dov'è E dov'è Erano quattro no No non c'è Lo vedo io A vedere No non ha fatto neanche il giro Prima aveva fatto il giro No no non c'è Eh ma sarà più lontano Andiamo a massacrarlo A massacrarlo Secondo me non Non si è reso conto Boh Dello scontro Non so Però vedi che a parte Carlac Dai Che però Carlac E io non ho più slot Incantesimo Gale Ah Gale No non può curare Guarda che brutto posto Carlac ha uno di vita Brutto posto però affascinante Devo dire Aspetta Facciamo così Non volevo fare il riposo Eh non ce l'ho neanche Ok dai ho curato un po' Carlac Allora Non Non bere dal pozzo Per favore No 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 Lascia stare Però vedi che ce l'abbiamo fatta Eh vedi Eh sì eh Evoco Ciao Ecco Qui adesso possiamo rubare? Sì 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 Ruba tutto Vai 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 Ruba tutto Casa del tè putrescente Ecco Già in uso Oh subito È arrivato Vado su Vado su Vado su allora Uh c'è un forziere Per la casetta che c'aveva Sento ringhiare È normale? No non c'è nessuno che ringa Un altro forziere Barriera arcana C'è fuori eh Guardiamo Ho preso delle cose interessanti Forse eh Uh oro Un sacco d'oro sto trovando Pozione Aspetta un attimo Qua Uh testa di maiale Quattro scorte da campo Mamma mia La signora della notte E i suoi amici Mannaia Ruba ruba tutto eh Ruba tutto 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 Voglio tutto Ok ho preso un po' d'erba Ma Oh ciccio No devi venire qua Pozione Guarigione Guarigione maggiore Mia Eh Una pira Tre pere Pozione Guarigione Guardala lì Guardala lì Oh Bravo È acceso il fuoco Brava Sì Beh Ah ma non Aspetta Vieni qua Che sei Che è? Ah no ce l'hai già Uh guarda le scorte da campo Non fai molta luce però Vieni qua Ah Non fai molta luce Oh Mamma mia la roba La roba Costolette Di rotte Eh Leggi Ok Le pere Le pere pure saranno marce Pistecca cruda Dieci scorte da campo Mamma mia Le scorte da campo Prendi Prendi Ah ecco Mi hai fatto tu Ok Sì 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 Di scorte Eh di scorte Abbiamo Settecentoquarantadue Non vorrei dire Ma Vabbè È una cifra Importante Sì Ricerca Senti io qui ho trovato Una pozione di velocità E L'elisir di resistenza Al fuoco Quindi ricordati Si serve C'è questo marcio Chiave Pagnotte Qua non l'hai preso Guarda quante pagnotte Eh no Sono ancora Aspetta Tagliere Prendo io Lo leggo Vorrei proprio È buono Senti madonna Ok con la La mortadella Dentro La mortazza No No Volevo dire Cioè volevo Prendere la torta E è passato davanti Gale Ho cliccato su Gale Sì sì La mortazza La mortazza Volevo dire Veleno semplice Settura aperta Allora Quella l'abbiamo aperta No Barriera arcana Sì Dopo Dopo A fine missione Quello serve Adesso Possiamo fare Ben poco Vedere Ah no Niente Qui hai visto tutto Tu giusto Ho preso io Ho preso io Le pagnotte Le pagnotte Ok bene Bene Dopo si fanno il panino Sì E bel paninozzo Abbiamo quasi 800 scorte Eh tanta roba Ah pozione Guarigione maggiore Dove mi è sfuggita Dov'è Vedere Abituati a premere Alt Mentre esplori Che ti dice Le cose principali Da raccogliere Eh sì E non solo principali Ecco comunque Vedi qua Oltre Il camino No Sì Che c'è Un passaggio Ah Non l'avevo visto Eh vedi Il fuoco è finto Vedi capito Ah E Che facciamo Entriamo No 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 Ti volevo dire Non entrare Ah ecco Perché lì è il covo Della zietta Non c'è subito Però A fine dungeon La troviamo E poi dovemmo combattere Ed è forte Eh Io avevo avuto problemi La prima volta Perché poi Lei si Si sdoppia No Anzi Più che si sdoppia Si quintupla Se non sbaglio E quindi Una è originale E quattro sono copie Illusorie E quindi poi dobbiamo Beccare quella giusta Hai capito? Certo Pensate La fantasia Dobbiamo essere Forti Dobbiamo essere Più forti Più forti Va bene Va bene Anche se qua Da vedere C'è ancora Perché qua C'è la zona Dove dobbiamo Indagare su Kaga Però non è qui Ok Non è qui che Kaga Kaga Ah qui c'è una rana Frastornata Cosa hai da gracidare Cosa hai da gracidare Tu vuoi uccidere me? Sei grande quanto il mio piede No aspetta Aspetta Perché io la prima volta Qua Questa qui Ci ho Ci ho combattuto Ma sai che dolori Ah sì? Sì Ma perciò un po' Non riuscivo mai a prenderla Mi pare Lei menava di brutto Quindi Ferenger Questo mi ha detto Guarda cosa ti ha corrotto In questo modo Careful Info Eh Non sappiamo Forse è meglio Se me ne va Ma sì Damose Damose Mamma mia Sei incoglionita Sì Che fa tornata Salva va Salva 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 Non andare nell'acqua Per favore No 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 Quindi Ok Quindi adesso Devo andare Della parte opposta No aspetta Non di qua Di qua Ok Sì però a me Per quanto bene Mi fa sempre schifo Beh vabbè Poi la palude A chi piace la palude Io non lo so Ha le streghe Una strega Per esempio Qui c'è Ci sono delle cose Da vedere C'è un barile Dove Seconda Oh Ecco il berletto rosso Dov'è Ah Aspetta 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 Nascondiamoci Nascondiamoci Attacchiamolo Di sorpresa Di sorpresa Di sorpresa Di sorpresa Eh mi ha visto Ah di sorpresa No però non ti ha visto te Aspetta non ha visto te Non ha visto te Fai ferma Stai ferma Siamo ferma Ah ok Allora Attaccalo Attaccalo Di nascosto Aspetta Aspetta Vediamo se ci arrivo Eh Non so se ci arrivo Non ci arrivo Vai Aspetta Aspetta Turno di pala Non Aspetta Ok Adesso piano piano Faccio entrare gli altri In combattimento Però Come vedere Aspetta Eh Facciamo Facciamo Sì Eh Mancato Ammazzate Secondo me però Tocca Aspetta Il gattino Il gattino Hai visto Il gattino Uh Il gattino Fagli graffiare Tutta la faccia Ma capito Proprio così Capito Compulsivamente Il gattino Serve Fa due danni Con gli artigli Ma Mia golio Attira Dovrebbe attirare I Se Amici Sta ceppa No Esco Ah Devo salire Per forza Aspetta Non riesco A No Vabbè Sennò vado in corpo a corpo Dai Fai Così Così Ok E E E E E Basta Hai il ragno Basta Uh Mi ha bloccato Ah Te dai però Eh Te stai a da Ma Scusa Eh Eh Mo Come ho Becco Io questo Non ho Becco Devo andare qua No Non Scatto Allora Il gattino Gale E Mo Oh Qua Qua Oh Ok No Oh Mizzega Vai Manca poco Dai uno Manca poco Vai Pala Yeah Ok No 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 Dove vai Dove vai Non andarti lì Ah Allora Allora Questo te lo do Questo te lo do Aspetta Che succede Che succede? Ah Ma Carlac è rimasta nascosta Mi sa Ma Carlac è tutto finito Aspetta che Sposto Volevo No no Aspetta Volevo bruciare Ah è sparita Ok a posto A posto Allora Prendi Dobbiamo andare di qua Guarda Hai visto i barili qua Signore Sì Figurati Eh beh Oh ma scusa Che faccio Mi guardo Aspetta che ti guardi te Riposi brevi Eh si ti prendo in giro Ti prendo in giro Percezione fallimento Mamma mia Che brutta Mela avvelenata Attenzione Attenzione Senti alle trappole Io mando avanti voi Così Non rischio Ok Ok vedi quell'isolotto Più avanti Lì Ah ah Dobbiamo andare lì Ma perché? Per Koga C'è la missione lì Ma no Lascia stare No no Dobbiamo sapere Noi Uh Qua c'è qualcosa Manda l'accampamento Raccogli Manda l'accampamento Guarda questo gretino Che giro di Peppe Intorno a Reati Guarda la roba da magna Salsicce Formaggi Madonna Salsicce Salsicce Formaggi Guarda guarda Frutta Giaciglio C'è un liuto Sti interessa Liuto me lo piglio Me lo vendo Perché ce l'ho Spavienza a fargli Giaciglio Guarda Guarda ho mortacci 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 No Faccio così Così Eh lo so Guardi è questo Che poi lui Entra nel mio inventario E fa come Invece Invece no Non riesco a capire La mele avvelenata Te la lascio Prendila tu Non la voglio Deve essere buona Ok Qui abbiamo preso tutto Mela mangiucchiata E lo lascerei Comunque dobbiamo tornare qui Ti entri No Strumenti di Disarmo Grazie Molto gentile Molto gentile Ecco qua Comissia Carlac Ok Che Lacerato Io direi Di Teletrasportarci Via Che dici Sì Sì Andiamo Dintorni Dintorni Del boschetto Sì Andiamo in un luogo Più Dintorni Del boschetto Ecco Un luogo più Più sano Per favore Oh Che bello Oddio Guarda Sono mezza morta No No Sei lacerata Putrefazione Mamma mia Anzi Mi sto putrefacendo Nell'anima Allora Andiamo De qua No Salutiamo Salutiamo Ah sì Salutiamo Andiamo a vendere Noi Andiamo a vendere Sì Noi Ci pensiamo Noi A vendere roba Ci pensiamo Noi Non vi preoccupate Non c'è bisogno Che ci andate voi Ok E niente Noi ci risentiamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao ciao Va che non ti senti bene Mi caschi a terra Mi fa bene Mi fa bene Suonare Mi capito Speri invigorito Mi aiuta Sì Va bene Ciao 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 ciao